Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gianna Attasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Scandici e il bivio per la variante di Valico. Per lavori è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Roncobilaccio e Aglio. Sullo stesso tratto fare attenzione per nebbia a banchi. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla regionale Due Cassia restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 278 nel comune di San Casciano-Val di Pesa. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo per le vetture. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze. Buon viaggio!